i suoi brani contano oltre 30 milioni di visualizzazioni sul suo canale con decine di cover dei fan che lo hanno ormai eletto a star del web domenico bini ha poco più di 60 anni è nato e viva trani un amante del heavy metal e da qualche giorno è disponibile sulla piattaforma chili il suo film un rockumentario in suo onore rappresenta la storia la storia su di me insomma da quando ho cominciato a suonare tutti i cd che ho composto le canzoni che ho composto la musica che è sempre stata una mia compagna di vita è stata una mia il mio rifugio perché io con la musica sono riuscito a superare parecchi ostacoli è il più grande regalo che io ho ricevuto fino adesso la cosa più bella che io potevo mai sognare nella mia vita si tratta di un viaggio alla scoperta di un personaggio misterioso seguitissimo oggetto di attenzione da parte di musicisti e di un pubblico composto prevalentemente da giovani che non perde occasione per affrettarsi a commentare in rete le strepitose interpretazioni di brani composti dal maestro come fan devotamente lo chiamano e seguite tutte voce chitarra elettrica ho scritto ai fans di guardarlo e loro mi seguono sempre da tanto tempo veramente aspettavano questo film e mi chiedevano sempre ogni volta nei commenti maestro quando uscirà questo per loro mi chiamano maestro per questo rispetto che hanno nei miei confronti la prassi è sempre la stessa si mette di fronte al suo cellulare accede la videocamera schiaccia re che lascia partire l'esecuzione del suo nuovo brano quasi sempre in chiave heavy metal e cantato a squarciagola nel giro di qualche anno senza volerlo e senza nemmeno rendersene conto ha raggiunto dal nulla una fama e una popolarità che nessuno mai avrebbe potuto prevedere se sono arrivato dove sono arrivato è per per merito dei miei fans perché loro mi hanno sempre avuto bene mi vengono c'è mi sono venuti a casa sono venuti a a portarmi dei regali a trovarmi poi mi fermavano per strada mi facevano le chiedevano le autografi tutte queste cose qui le dediche la firme del regista tranese giuseppe del curatolo che ha scritto anche soggetto e sceneggiatura e nasce dal piacere di raccontare la storia di una persona che per tanti anni ha inseguito un sogno ma noi piace che il pubblico che guardi il film colga il senso e l'omaggio nei confronti di una persona buona che si merita tanto successo e si merita tutto il piacere che che insomma gira intorno a lui e anche che con molta autoironia e con molto senso del gioco ha creato un meccanismo che sta facendo il giro del web del mondo